Ciao ragazzi, benvenuti sul mio canale, io sono Magnus, me l'avete chiesto e Magnus l'ha portato siamo qui con GTA Online, andiamo ad affrontare la prima corsa protobubola sarà uno spettacolo che può dirlo naturalmente come al solito vi invito come sempre a mettere un bel pollice in su, un bel commento e un bel mi piace fatemi sapere se vi piace questa serie detto questo ci troviamo già in classifica, dobbiamo giocare, siamo pronti ci sono anche due miei amici qui dentro ma non credo che parleranno, sono un pochettino timidi ok, stamp centrifuga, questo è quello che sale e scende se non mi sbaglio, no è quello che gira tutto super dobbiamo stare attenti perché in partenza ci spingono sempre vai vai, ok, uh che bella partenza che ho fatto, porca miseria, uno l'ho fatto fuori però abbiamo un po' spinto mi raccomando e non spingete, non spingete, non spingete, non spingete, c'è miseria adesso è bastante, aspetta, vabbè tutti quanti, mazza, aspetta c'ho un problemino qua eh vabbè dai domani, domani è incredibile, sì vabbè dai, possiamo spingere tutti ciao, è incredibile ragazzi, ragazzi, che palle, questo si trova lasciato, travalente se dai dai, andiamo avanti, oh beccano sempre me, non fa niente, vabbè allora ci stanno ancora là, mi devo impegnare, devo cercare di beccarli subito in una curva a destra e vediamo aspetta, aspetta, vai così, vai ok, uno qua si è fermato e lo freghiamo ok che c'è ragazzi, state vedendo un po' di difficoltà qua, vedo un po' di difficoltà attenzione che sono anche in difficoltà ok aia ok, adesso scegliamo avete visto, c'avevo già sesti piano, ok siamo sesti so tracciato la mia aia qua è brutto qua eh qua è brutto guarda ce ne sa uno che sta là davanti bene qua, li hai fatti becchiare ok, scegli ok, adesso stiamo tranquilli attenzione oh ma sta macchina sbanda leggerissimamente dove stiamo andando a prendere eh beh, però chi stiamo andando a prendere eh aspetta, aspetta, vieni qua, vieni e vieni amico, vieni ok là ce ne sa uno che sta già in pericolo attenzione al salto aia, aia, aia l'ho superato vada sto bastando come mi stringe ok ce l'ho fatta mi ha stretto aia, aia, aia ok mi stava partendo il posteriore vai vai aspetta l'avevo un attimo persa poi l'ho ripersa ok aspetta vai giù, vai giù dove ho fatto? allora aspetta non vi do una mazza ah ok oh cavolo aia ok devo scendere adesso dai che sbagli, dai che sbagli oh questo è quello di prima che stava davanti eh attenzione che qua aspetta sa che ci potrebbe andare più sul sul più sul centro attenzione che mi sta orca miseria vera partito ma questo sta proprio cioè lo lo teniamo davanti da venti minuti un insegnamento la morte rush oh cavolo attenzione che non sto capendo una mazza ok ok centrale quando vado sotto su ma non vedo niente cioè non capisco niente taglio, taglio, ok rush attenzione che qua andiamo sempre male nooo che cavolo sta succedendo? non so dove sto andando sinceramente ok ok abbiamo sbagliato abbiamo sbagliato vai non penso di farcela ok ce l'ho fatta ma pensavo che ci fosse siamo sempre quinti eh quindi con chelm cerchiamo di recuperare la nostra postazione aspetta quanti giri stiamo? ok secondo giro siamo quinti eh stai ancora alla aspetta che ti veniamo a prendere ti veniamo a prendere non voglio fare lo scorretto però siete stati abbastanza scorretti con me che gusto aspetta dai 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 no non da qua non da qua vai ce la fai stai in velocità stai oh cavolo sono sono secondo non ho capito neanche come ho fatto a essere secondo che cavolo è successo? no 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 non dobbiamo perdere assolutamente la calma ci sta ci sta partendo tutto il terreno qua ma come? ci hai superato così all'improvviso da dove vieni? questo c'è al nostro questo combattiamo per il podio anzi veramente no già stiamo sul podio dai dai se mi becco la scia ti dovrei... aspetta che qua l'ho beccata male aspetta aspetta non mi spingere eh non mi spingere aspetta che taglio eh vai ok questo ce l'ho... oh ce l'ho ancora in scia questo eh almeno è corretto però eh almeno è corretto e dura aspetta che ste cavolo di cose vanno male ok 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 aia aia salto sbagliato salto sbagliato ok l'ho ripresa oh ce l'ho uno dietro ce l'ho uno dietro per cortesia non mi spingere ammazza oh lo sono chiamato eh aspetta cerco di girarmi cerco di girarmi ok non ho manco capito che cosa ho fatto non mi spingere giù non mi spingere giù ok nooo non mi puoi fare questo non mi puoi fare questo in buona posizione sta macchina eccezionale ma in fase di acce... se vabbè ma mi stanno fumando tutti aspetta che qua è sempre tutto in ballo basta un minimo un minimo errore no e grazie e grazie porca miseria siamo arrivati ottavi non meritavamo secondo me non meritavamo vabbè siamo arrivati ottavi però stavamo migliorando vabbè lasciamo prendere ok prossima gara vabbè giustamente abbiamo fatto... mazza che ruote che c'hai abbiamo fatto auto adesso facciamo anche moto vai vai ok la partenza è buona partiamo sempre... non mi spingete vai vai vado a destra attenzione wow 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 ok partiamo sempre bene alla grande mamma mia ragazzi quasi beccato la montagna eh ti sei spezzato... è buto meno nel collo eh però ok eh non mi rompete le schiatole fatemi andare avanti ok scegli di qua vai mazza stiamo quasi rompendo qualcosa per sospensione anteriore e posteriore e avantreno questo mi sta fregando la scia eh non mi spingere vai che cerco... cerco di tagliare bene vai attenzione non ci spingiamo ok l'ho beccato allo stesso eh oh questo dove arriva? ma che fate? li incrociate allo scontro aia aia non ho capito niente non ci ho capito se se sto passato o ripassato provo a beccare no dai che ce la facciamo in mezzo non riesco manca a beccare la scia vai 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 che questo è il nostro vai questo è il nostro ok attenzione 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 mi sa che è meglio che cadi oh ok dove cavolo è arrivato qui? da là sopra attenzione che cadi attenzione che cadi porca miseria penso che qualcuno sarà accaduto no? credo forse ok muoifi eh ma così non vale ci hai fatto beccare quasi i figli ho sbagliato strada siamo terzi ma neanche gli altri capiscono una mazza eh aspetta eh aspetta non mi spingere guarda sto bastardo aspetta vada che adesso ti ribecchiamo subito e gain salto attenzione che qua si cade ok mi stava partendo l'impossibile che fa? si te fermato? ah ok attenzione all'alba eh al traguardo com'è andata? siamo arrivati terzi mi pare no? ok non siamo arrivati terzi con la moto siamo andati niente male ok ragazzi anche questa parte termina qui naturalmente se vi piace questo genere di video sapete benissimo cosa fare mettere un bel pollice su un bel commento e un bel mi piace fatemi sapere la vostra detto questo spero come sempre questo video se vi piace se vi ricommentate se ti piace non ci vediamo se vi è piaciuto e bye bye ok